Sì, ma chi decide però? Questa è una domanda da mitapparo puro. Io ho fatto 12 anni da mitapparo. Però non avete ancora risposto. Allora, la svolta estiva agostana l'ha decisa Beppe Grillo con un post sul suo blog che si intitolava La coerenza dello scarafaggio. È vero? Ricordo bene? In cui annunciava la svolta, poi l'ha convocati tutti a Bibona e ha imposto a Di Maio di fare la grande conversione. E Roberto Lombardi quel giorno probabilmente ha stappato l'imposizione era una parola forte. Non gliel'ha imposto perché lei non può negare che dentro il movimento c'era un'ala consistente e non era solo Di Battista, in quel momento era anche Di Maio che era ancora tutto attento a vedere che cosa si muoveva nell'area leghista perché ricuscire lo strappo con Salvini sembrava in quel momento forse la cosa migliore e più opportuna. Allora io torno al tema. Ho capito, voi dite, noi siamo qui perché l'opportunità e l'occasione è quella di risolvere i problemi. Ma i problemi non si risolvono allo stesso modo con Zingaretti o con Salvini. Sono due cose radicalmente diverse. Tanto è vero, ripeto, che in 14 mesi voi l'anima l'avete regalata a Salvini. Avete perso 6 milioni di voti. 6 milioni di voti. E' una cosa che non vi dovrebbe far dormire la notte. Perdere 6 milioni di voti significa che avete sbagliato qualcosa sicuramente. Ma non solo la comunicazione, mi perdoni. Ma perdere l'anima francamente no. Ebbè, ma 6 milioni di voti. La nostra anima è concretizzata da quello che è il nostro metodo, che è anche il nostro fattore identitario. Il passaggio su Russo, che spesso viene, come dire, un po' derubricato a una cosetta così, il festival dei click o qualcosa di... No, diciamo no. Ma quando sono funzionato... Ma quando 70 mila persone decidono il nome per conto di 5 milioni, con Verrache è un po' strano, no? Decide che cosa deve fare una forza politica. Sì, ma il nome per conto di 4... Adesso sono femmini europei e 4 milioni e mezzo. C'è chi lo fa in una segreteria di 20 persone. Diciamo che forse anche quello non funziona più. Allora, ogni metodo è opinabile. Su questo ha perfettamente ragione. Allora, approfittate di questa situazione per ricostituirvi come partite. Noi abbiamo una piattaforma dove i nostri iscritti possono condizionare in maniera fondamentale quelle che sono le scelte determinanti della vita del Movimento 5 Stelle.